Sono ancora da scrivere le sorti del baracchino di Piazzale Genova. Nell'udienza di stamattina in tribunale il giudice civile Antonino Fazio ha ascoltato le parti, ha acquisito tutti i verbali e si è poi riservato di decidere sul ricorso presentato dalla proprietà contro l'ordinanza di rimozione dello storico locale. La sentenza è quindi attesa nei prossimi giorni. Parti che a quanto risulta sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni nonostante l'invito del giudice ad arrivare a un accordo bonario. È infatti messamente naufragata la proposta che il titolare Marco Bertorelli ha formulato nei giorni scorsi al comune attraverso il suo avvocato Emanuele Solari. In base a questa proposta era stato offerto al comune di sanare per intero la posizione debitoria e avevano aggiunto che sarebbero stati disponibili a portare avanti l'attività del baracchino non vincolandola alla posizione all'angolo di via Palmerio purché si potesse esercitare nella zona di Piazzale Genova. Disposti anche a farsi carico del 50 per cento delle spese di ricostruzione del locale tenendo conto di tutte le regole di decoro urbano che avrebbe indicato il comune. Interpellata sulla questione l'assessore al commercio del comune Giorgia Buscarini ha spiegato che l'amministrazione comunale ha valutato la proposta in oggetto ma ha deciso di proseguire nella sua azione. Ad avviso di Palazzo Mercanti infatti permangono problemi di viabilità legati alla ricollocazione dell'attività nella zona di Piazzale Genova e comunque la stessa dovrebbe essere aggiudicata attraverso un bando pubblico.